Ecco come creare immagini tridimensionali direttamente attraverso uno schermo, come grazie a Leia, nuovo gadget che consente di creare ologrammi tridimensionali direttamente attraverso il display dello smartphone. Ologrammi che è possibile spostare o ruotare con un semplice gesto delle mani, senza neanche bisogno di toccare lo schermo. Nel video vediamo come funziona, anche se per ora è solo un prototipo, entro l'anno Leia potrebbe arrivare sul mercato. Grazie a tutti.